chi vince di loro torna nella winner chi vince di voi gioca in bocca al lupo, questa è la usage final ciao ragazzi, ciao Stefano, Fabrizio la prossima volta scambiano le magliette la prossima volta scambiano le magliette e tu sei, parte con un bel uf3 a muro e viene tranquillamente a bali, puma, vedi che non l'ha fatto praticamente alzato limite, lo ha praticamente e studia veramente è partita la rollata della morte a sotto e tra 106 si ho detto i numeri dietro il pio pugno per insomma, l'umano gliene frega, vince pari, palla al centro faccio una rollata all'indietro, prendere spazio, un avanti avanti, non punito da 6, ma probabilmente perché c'è il guard a 6, per cui mi dovrebbe fare, avanti doppio punito e mitragliato quindi non è facile punirlo se ne lo fai quindi non è facile punirlo se ne lo fai parte una ridge drive di combo garantisce colpo a terra colpo DF1 vediamo, vediamo se è parte del DF che vi sono il DF1 di kuma è stato il secondo ho fatto il struggle il primo input questo fa praticamente sulla posizione da fermo il terzo 2 senza 0x60 vediamo se Vincenzo riuscire a trovare cambia personaggio come dice 0 film ma quelli sono registrate ah no vabbè per uso privato domestico Vincenzo non fare queste cose Alessandro esatto Vincenzo prova a Peking e vediamo se qualche multipresa da 167 danni no vabbè cosa cazzo la farà e vediamo se ci riesce parte V2 ma vuoto di cerchiamo guarderanno in giù guarderanno in giù velocissimo spessore che rialzo ma non massimizzato la giagota il motivo di qui prima cioè quello del cambio di personaggio si destabilizza un po' io ho notato il cambio di personaggio parte una giagola di kuma di king sto invecchiando scusate parte la legge tra i vici per stampo se il disagio fa una pre king va all'interno di nuovo running per WF4 era quello che raggiunge il testo ah ok il meno 14 è stato punito dietro un 2 poi running un 2 con il vantaggio a far WF3 dipende 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 partite con carcetto pasto def 4 avanti costruendo semplicemente il gioco a muro e la seconda partita comunque 5-0 per sesso vediamo se il personaggio rimane stesso gli orsi che parla si può eh 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 si Aldo Aldo un po' un po' di un po' di gialata wing siamo a eeeh anche va giallo con i strani da la parte massimo giallo pesa stun ma un salto punito da settembre dei giardi ma il basso lanciato se mio nonno avesse avuto tre falli aveva troppo poca energia esattamente ma anche anche se si si jack oddio sm vincese vincese